la vostra presenza. Parlerà di legalità come un vero e proprio bene comune il Vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, Armando Trasarti che sabato mattina terrà il consueto appuntamento prima della pausa estiva al centro pastorale di Ocesano in via Roma 118 a Fano. L'incontro vedrà come protagonisti gli operatori sociali ed economici e avrà come tema la giustizia. Ai due interventi principali, quelli del Vescovo e del padre gesuita, giornalista e scrittore Francesco Occhetta, seguiranno gli interventi programmati di Marta Bianco, comandante della polizia penitenziaria del carcere di Fossombrone, Giorgio Magnanelli dell'Associazione Un Mondo a Quadretti, Marco De Carolis, giudice onorario del Tribunale per i minorenni delle Marche, Federica Tarsi, laureanda in giurisprudenza e Michela Pagnini, responsabile della Sala della Pace della Caritas Diocesana. Nel corso della mattinata Trasarti tratterà l'ampio tema della promozione di una cultura della legalità in cui occorre ristabilire per prima cosa l'importanza del rispetto delle regole. Affronterà poi, senza giri di parole, come è sua abitudine, il tema della corruzione. Se questo fenomeno è un grave danno dal punto di vista materiale, ha detto sua eccellenza, e un enorme costo per la crescita economica, ancor più negativi sono i suoi effetti su beni immateriali, legati alla dimensione qualitativa e umana della vita sociale. L'incontro aperto a tutti è organizzato dal Vescovo e dall'Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e prenderà il via alle 9.30 fino alle ore 12.